ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su new world per parlare un pochino di questo titolo che nulla c'entra con gli indie games dato che è stato sviluppato da amazon games ma voglio fare un pochino il punto della situazione e dirvi un pochino quello che penso perché questo gioco è l'unico gioco per cui ho rilasciato una recensione negativa scelta un po forse immorale la mia però sono rimasto frustrato dall'impossibilità di accedere adesso poi io la toglierò la metterò ovviamente positiva perché il motivo ve lo dico è un parere così veloce è un parere senza aver speso una quantità spropositata di ore saranno più o meno 5 6 ore l'avevo già provato in beta ci avevo fatto due live siamo su un server italiano sembra un po così strano vedere tutta la chat in italiano non è io to name ma è britti al secondo server che hanno aperto poi ne hanno aperti altri due poi ovviamente secondo me nel giro di un mese o due tanti abbandoneranno il gioco e i quattro server secondo me diventeranno uno massimo due comunque hanno garantito un trasferimento gratuito dei personaggi qualora scegliate un server e poi vogliate una volta che si è sgonfiato il tutto l'evento di lancio insomma il boom che sta avendo avete appunto lo spostamento gratuito io sono qui adesso vi faccio vedere giusto velocemente la pesca perché ho sbagliato perché praticamente perché sto pescando perché la pesca mi serve per ottenere l'olio di pesce l'olio di pesce è una quest lo si tiene demolendo il pesce adesso vi faccio vedere appena vado a pescare appena dovete fare questo minigioco dove quando la lenza si tira troppo la fate riposare il pesce si riallontana e poi lo andate a recuperare niente di difficile ho trovato anche un bel forziere prima che conteneva un sacco di pietre preziose devo ancora prendere bene la mano con la quantità di denaro perché mi sembra un po bassina e probabilmente qui non si parla di decine di miliardi di monete ma addirittura migliaia e basta vedevo gente che vendeva degli oggetti a 70 ori quindi non lo so comunque ora usciamo dall'acqua usciamo dal dalla modalità di pesca e andiamo a vedere il pesce che ho raccolto che è questa per ottenere l'olio di pesce devo andare e recuperare il pesce che verrà diviso in due tre filetti di pesce più eventualmente l'olio che non ho ottenuto in questo caso perché ne ho sempre due vado a demolire anche gli altri due pesci che ho recuperato no recupero anche questo no salmone vediamo no ho trovato anche una spada a pesce che recuperando mi da tre o quattro lingotti di ferro non va sempre comodo devo recuperarne 20 quindi ci verrà un bel po però intanto io ho messo l'accampamento ecco una cosa che devo dire sul gioco è che all'inizio magari dici che cavolo ti serve ti serve perché mi sono messo qui e sono vicino a una location di di una quest che sto trovando particolarmente complicata e adesso vi spiego anche il perché vi do il mio parere e quindi mettere un accampamento qui è utilissimo per riposare e recuperare la vita ma soprattutto andare a craftare cose utilissime tipo le razioni leggere quindi in questo caso vado a farmi razioni in modo da far salire anche il livello della mia vabbè della reputazione e il livello di cucina accampamento sta lì allora che devo dire il gioco è interessante benché io abbia diversi dubbi in proposito i dubbi che ho in proposito sono sulla durata sul fatto che non ci sia la possibilità di nuotare infatti si cammina sul fondale quindi mi chiedo dato che non hanno messo queste cose gli sviluppatori sapranno avranno modo di fare qualcosa che ha a che fare magari con delle mount che non ci sono delle barche degli oggetti con cui il personaggio interagisce e magari collabora con altre persone per dire pensiamo a cage è nato come un gioco dove potevate prendere la nave e viaggiare con altra gente stessa cosa lo fa black desert mi chiedo questo dato che poi in quello che fa combat è un gioco nato per essere un pvp poi diventato un pvp insomma non così hardcore come doveva essere quindi full loot a livello di combat niente da dire e soprattutto se cercate qualcosa come il mio vecchio amico mister d'elleric dove vuole avere la soddisfazione di vedere il proprio personaggio che riuscire con questo gioco è uno di quelli che ho visto maggiormente orientati verso questo aspetto nel senso che voi avete una serie di equipaggiamenti poi se voi raggiungete un tot di livello di armatura di peso non potete più rotolare ma fate questo movimento quindi non siete più agili dovete mettervi proprio non a livello medio ma a livello leggero io poi ho messo la spada allo scuro quindi dovete imparare colpire o colpire con forza quindi tenendo premuto usando q r e f come abilità speciali abilità che poi sbloccate man mano continuate a usare quell'arma e quella ma vi sale di livello in questo caso vedete ne ho sbloccato un'altra potrei andarmi a prendere questo che è il colpo con salto che posso usare ma sono tutte belle mannaggia uso meno il colpo con scudo quindi forse potrei trasferirla su la erne questa sì ok poi con il tasto 2 o la staffa di fuoco che mi permette di lanciare degli incantesimi in quel caso consumo il mana e non più la stamina adesso vi faccio vedere adesso io attacco lui vedete che l'ho colpito adesso vado a lanciare un incantesimo molto forte che la pioggia di fuoco in questo caso poi la interrompo vado a prendere questa e uso le mie abilità ecco ho sbagliato uso il colpo dietro ok vedete che sono molto più forte con lo stocco probabilmente ecco lo stocco con la spada anche lo stocco per un'altra arma ho recuperato maestria con la spada con la staffa di fuoco e reputazione quello che mi fa un po così è il fatto che anche andando ad affrontare in questo caso sono del mio pari livello dovete essere tattici vedete che io adesso lo schivo so che questo fa un colpo multiplo e poi vado e lo attacco in questo modo poi so che riattacca colpo singolo poi posso andare anche a parare se lo prendete eh mannaggia lo prendete come un gioco dove alla diablo o all'altri giochi dove picchiate 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 come black desert non andate molto lontano anzi infatti mi ha frustrato molto perché mi ha portato delle quest mi ha portato contro mob di livello 17 e soffro tantissimo e per quanto io ci metta magari anche schivata e tutto le prendo ma anche contro mob di ottavo nonno livello io sono il 13 se mi attaccano insieme e io attacco ad cazzum quindi senza star lì a gestire bene il il mio combattimento il movimento la schivata la parata le prendo e muoio quindi questa è una cosa molto molto interessante molto bella perché si cresce tanto e il combat è bello da soddisfazione che viene voglia anche di aiutare altri e ho trovato eh tanto aiuto nel negli altri giocatori nel senso che tante volte mi hanno aiutato ad abbattere un un cinghiale che dovevo lutare ma non me l'hanno fatto lutare a me cioè non ce lo siamo fregati stessa cosa io poi l'ho rincrociato più avanti gli ho dato una mano e poi glielo ho lasciato ehm è proprio bello anche il fatto di di andare aiutare qualcuno almeno a me ha dato questa sensazione poi magari mi sbaglio e non è così sono tutti stronzi no e niente intanto c'è tanto livellamento da fare perché il cap è il 60 e ovviamente il gioco sarà poi orientato sul pvp pvp anche qui si parla di conquista di territori ci sono dei dungeon potete giocare con amici sarà da vedere anche lì che cosa in che direzione andrà sicuramente essendo basato su abilità del giocatore e equipaggiamento anche il pvp potrebbe essere una sfida ovvio che se vi uccidono se morite non perdete che anche però vedete la cosa bella è che è un gioco di ruolo misto on survival perché dovete mangiare se volete recuperare la vita in questo caso vedete che se non sono messo benissimo quindi me la prendo mangio e soprattutto dovete riparare la riparazione avviene con dei pezzi di ricambio che ottenete demolendo i gli oggetti oltre che ovviamente avere materiali avete anche questa questi materiali di pezzi di ricambio che vi consentono di riparare infatti la staffa è messa parecchio male c'è dove potete commerciare e soprattutto il crafting è assolutamente sconfinato all'inizio ho fatto questa borsa qui per espandere l'inventario da 200 mi è andato 300 per farlo ho dovuto recuperare lino che andava raffinato da alcuni materiali ho dovuto fare la pelle raffinata quindi ho dovuto conciare la pelle andando a cinghiali e poi ho dovuto comprare anche una una runa dal rappresentante di fazione io mi sono unito ai viola vedete questo qui mi ha aiutato però io ho fatto maggior parte probabilmente lui non ha preso esperienza sto cercando sto forziere comunque per farlo ho dovuto fare qualche quest non diciamo utile al pvp nel senso che quando voi andate e fate le quest di aiuto della vostra fazione o sì di aiuto alla fazione potete farle sia pvp e quindi dovete andare a recuperare delle cose piuttosto che uccidere dei tizi ne ho fatte 4 o 5 per ottenere mille punti che ho speso nello shop della fazione spendendo sia coin quindi le monete sia questi punti reputazione di fazione per ottenere quella runa che mi serviva per la creazione di quell'oggetto poi sono andato a vedere anche il crafting diciamo diverso quello probabilmente un caso unico dove serviva quella luna gli altri no quindi servivano solo materiali quindi non bisognava farmare nulla di quel tipo la cosa un po scomoda è che un walk in simulator quindi non ci sono mount e quindi si cammina si cammina si usano teletrasporti i teletrasporti uno ogni ora verso la vostra locanda mentre invece nei punti di teletrasporto spendete queste pozioncine che non ho idea di come si facciano ad accumulare ho completato la quest la cosa bella è che quando arrivate in una zona dove ci sono delle quest che avete preso le quest si evidenziano prima brillano e poi rimangono evidenziate quindi sapete che lì c'è quella quest lì ora devo andare a consegnarle vedete che è una camminata enorme prima io sono andato fino qui è stata veramente dura è stata lunga e anche lì ho il dubbio le sapranno sviluppare le mount ce l'avranno già messo in conto di o per non sbilanciare il pvp non lo hanno fatto non lo so onestamente non lo so fatto sta che però si cammina tanto ed è magari rilassante per alcuni frustrante per altri quindi anche quello è però è figo il fatto che comunque si vaga si esplora si trovano forzieri si raccoglie tutto ci sono dei mob da uccidere si uccidono si guadagna sempre reputazione c'è sempre qualcosa da guadagnare e la parte appunto bella del gioco è il fatto del progresso del personaggio quindi la possibilità di andare a crearsi una build magari informandosi chiedendo io adesso ne ho una ma provvisore non è una build pratica adesso io potrei andare a mettermi vedete ho preso degli attributi ma sono un po fatti a cazzo posso riaccreditarli e rimetterli la maestria con le armi rimane queste le competenze vedete sto livellando un pochino la lavorazione del cuoio ma soprattutto scuoiatura perché le ho fatte per via di quest varie questo sono io questa è la fazione e poi vabbè andando a fare missioni per una data regione avete la modo di sbloccare dei punti di reputazione che potete spendere per avere dei bonus in quella regione e ogni punto potete scegliere se magari potenziare la diminuzione delle tasse per voi o la restrazione delle risorse più velocemente avere più esperienza in combattimento cioè ci sono varie cose mondo è bello molto mondo è molto bello la nave lì sotto adesso la vedo me la ricordo ieri ci ho passato un'ora perché non si trovava dove erano i boss ce ne erano due da uccidere e soprattutto ho sofferto tantissimo eravamo in 15 e dopo 3 4 uccisioni sono riuscito a prendermi la kill quindi dovevo proprio attaccare prima degli altri perché probabilmente il mio equipaggiamento fa schifo il mio equipaggiamento lo posso trovare vedete che adesso abbiamo poco fa abbiamo trovato una spada vado a vedere com'è abbiamo trovato spada del soldato fa meno danno della mia è la stessa spada ma fa meno danno la figata c'è anche questo stocco però uno stocco è tutto un'altra ma non si abbina con lo scudo io spada e scudo che è un'abbinata c'è anche il guanto del ghiaccio poi potete andare invece a craftare la e per craftare la vi servono ovviamente dei materiali dei soldi perché si pagano le tasse poi se la vostra fazione possiede quella città quella zona pagate meno tasse se non pagate di più e poi ci sono questi modificatori quindi potete andare a usarli in fase di crafting per creare un oggetto di qualità superiore e questo mi ricordo un pochino ultimo online dove potevate usare dei materiali che potenziavano e rendevano unico il vostro oggetto rimangono tanti i dubbi più che altro la mappa è questa ma è solo un terzo di quello che dovrà essere un giorno quindi lo espanderanno vedete che poi la strada qua va avanti poi pare che su qualche sito ci sia qualche info in più sulla mappa completa non ci sono mount l'housing c'è sarà da vedere che cosa che cosa porterà in più sarà da vedere cosa sarà l'endgame al momento sembra abbastanza lungo arrivarci soprattutto perché adesso va bene fino al 20 dicono che si faccia velocemente ma io ovviamente comunque devo stare dietro all'equipaggiamento non si può andare avanti così bisogna ogni tanto prendersi un attimo pensare vedere che cosa serve per potenziare per renderci più competitivi quindi questo è ecco la questione code io stamattina sono entrato tranquillamente sono dentro da stamattina non ho giocato tanto perché ho dovuto fare delle cose l'ho lasciato collegato però ci ho giocato pomeriggio ancora fattibile perché comunque avete 80 100 persone di coda quindi si entra parlo di brittia è ovviamente il secondo server che hanno aperto la sera è improponibile perché ho trovato 2000 persone 2000 persone da quello che ho visto comunque penso che un'oretta e mezza due ore ve le porti via per poter entrare quindi la mia recensione negativa su steam nasce dal fatto che se voi avete preso il gioco e non l'avete mai visto non l'avete mai provato io l'avevo già provato vi fate fuori le due ore di prova e non credo che poi a meno che non intervenga qualcuno non credo che poi steam vi permetta un reso dopo più di due ore quindi insomma è da valutare bene questa cosa sicuramente poi nel giro di un mesetto cambierà un po tutto però vedete si cammina sempre cioè non ci sono cose per poter sfoggiare io poi ho una maschera improponibile adesso quindi sto andando a consegnare la quest di di fazione ormai ho più o meno imparato dov'è anzi no questa non è la quest di fazione perché è da tutt'altra parte questo è un tizio che mi ha dato le missioni e mi ha dato il martello d'avventuriero pian piano mi stanno facendo avere un po tutte le armi da poter usare devono darmi un'altra quest ok vado a consegnare l'altra poi è bello il fatto che quando non sapete cosa fare vi indica dove sono le quest vi indica dove potete prenderne di nuove in città e soprattutto andando su ogni città di regioni iniziali quindi dove vedete che c'è scritto livello 125 mi dice quante ce ne sono e in quel caso 3 a me non fa impazzire questa città dire la verità perché la città piratesca non mi piace molto preferivo l'altra che era un po più mattoni e cemento eccolo la la rappresentante di fazione sulla testa vedete il simbolino della fazione che hanno scelto i vari player al momento come potete vedere qui la regione abbastanza bilanciata nel senso che i verdi hanno queste regioni i viola hanno queste e i gialli quello nel momento qua sembra bilanciato comunque parlo vedete che ho preso delle missioni pwe ho preso una missione pwe mio obiettivo una quest è salita di livello quindi io adesso la completo guadagno esperienza salvo di livello io stesso ho tre bonus al giorno quindi bonus all'esperienza quindi dovrei farne altre queste invece sono quelle pvp sono pagate ovviamente di più però sono più o meno sempre quelle da fare quindi non non c'è non aspettatevi una gran varietà di di quest se non che ci sono i dialoghi in italiano doppiati in italiano in alcuni casi solo alcune righe e quindi c'è una sorta di storia che riuscite a seguirvi non la città poi aumenta quindi potete contribuire voi stessi nel tabellone della città a contribuire alla crescita della punto della città la città è tassata dalla fazione dominante e se voi non fate parte di quella fazione avete più tasse questo il tabellone principale della città dove ho preso delle missioni in corso potete prenderle anche tutte ce ne sono diverse caccia al tacchino insomma date avete soldi e avete punti miglioramento per le varie vari progetti cittadini ragazzi io con questo vi ringrazio fatemi sapere che voi che cosa ne pensate se avete qualche domanda ormai il gioco ce l'ho quindi eventualmente posso fare qualche approfondimento in qualità di non solo indie ragazzi io vi ringrazio e alla prossima ciao ciao